Buon sor di questo video, CarVertical vi aiuta nella scelta di auto e moto usate fornendovi un report dettagliato con tutte le informazioni disponibili riguardo un particolare veicolo. Tipo questa BMW S1000RSRSS o come era la sigla, voi magari la state comprando da un privato che l'ha sistemata alla buona e ve la vende assicurandovi sia tutto a posto. Però, prima di inserire la mano nella tasca dietro, inserite il numero di targa o di telaio di quella moto dentro CarVertical e dal report scoprite che in passato era stata danneggiata e anche se la gravità del danno non è classificata, trattandosi di forcelle e cannotte dello sterzo, grazie a CarVertical, salutate il simpatico venditore senza neanche pagare il caffè e andate a cercare altro. Provate CarVertical cliccando il link che trovate sotto al video e riceverete un 20% di sconto. Grazie CarVertical. Allora, iniziando con la cronaca, direi che Francesco aveva deciso che fosse domenica e non sabato, quindi è partito a cannone, si è messo davanti a tutti e li ha salutati. Salvo poi che era effettivamente sabato e quindi piccola sbavatura in frenata, la salva, gira larghissimo, rientra in quarta posizione e finisce in quarta posizione. Tutto regolare, un sabato come tutti gli altri. Sì, senza l'errore sarebbe stato meglio. Sì, vincerla sarebbe stato meglio, ma in generale tutto in linea. Se poi considerate che Martin ha fatto un punto in più di lui, chi se ne frega proprio. Sulla vittoria di Maverick ci saranno due squadre di pensiero, immagino. Una dirà che l'errore di Francesco, il fatto che fosse davanti a gestire un po' come al solito, ovviamente pesa sul prestigio della vittoria di Maverick, perché già è una garetta e non una gara. Aggiungete il regalo di Francesco, aggiungete che Martin è in difficoltà e aggiungete il fatto che Marquez non ci ha ancora preso le misure. E la gara di Maverick diventa importantissima per il morale suo e della squadra, ma lascia il tempo che trova. Perché sa di vittoria alla prendi tutto e metti in un sacco veloce finché sei in tempo e scappa. L'altra scuola di pensiero dirà che questo potrebbe essere il sintomo di una svolta per Maverick sull'Aprilia. Io da che parte sto non lo so, quindi come al solito mi limito a guardare senza farmi troppe idee preventive. Martin continua ad avere problemi di vibrazioni e continua a metterci una pezza come può. Si sono dati un paio di schiaffetti lui e Marquez ed è stato probabilmente l'unico highlight della garetta. Marquez è un soggetto molto interessante in questo periodo, non tanto perché è Marquez, ma perché è in un processo di crescita sulla Ducati. Quindi ogni volta che esce è un pelino diverso dalla volta prima. Prende sempre più confidenza, azzarda, cambia, prova, rigira, ha fatto anche un bel botto per aver messo l'abbassatore troppo presto. Insomma, è un qualcosa che si muove in avanti e questo è sicuramente figo da vedere perché non sai mai quello che aspettarti. Poi lui è lui e quindi ha maggior ragione. Miller sembrava avesse qualche chance in più del solito, invece ha faticato. Bestia si è intrecciato con l'abbassatore prima della partenza e quindi niente. E quindi un po' le solite. Ed è per questo che volevo fare un discorso, perché oggi tutti felici e contenti della vittoria di Maverick, aha, ihihuhu, però non si può non fare una riflessione sul significato delle sprint. Perché non so se ci avete fatto caso, ma con queste moto anche la promessa di avere gare eccitanti, corte, all'arrembaggio, senza doversi preoccupare del consumo delle gomme, è già svanita. O forse non c'è neanche mai stata. Perché c'è troppa aerodinamica e ci sono troppi accrocchi. Non riescono a sportellarsi, non riescono a stare vicini. E quindi non importa quanto lunga sia la gara, c'è sempre una grossa parte che è super telefonata. Le sorprese sono i lunghi o le scivolate. Raramente è un sorpasso inaspettato. A me l'unico che sembra avere un po' di margine nei sorpassi è Francesco, e poi c'è Marquez che la butta dentro quando gli pare a prescindere. Per il resto sono tutti impiccati, al limite, con questi barconi che galleggiano, poi si accostano, provano a mettere il naso dentro nel dritto o in frenata, e poi ci ripensano perché tanto sennò vanno per terra. E l'unica cosa che possono fare, quando proprio devono per fare un sorpasso, è mollare i freni e sperare che l'altro raddrizzi. Altrimenti trenini. Poi è chiaro che due o tre volte all'anno capita la pista giusta, con le condizioni giuste e c'è il caos totale. Ma di base non è così. E vi faccio l'esempio di oggi. Dopo le qualifiche ho scritto su Instagram quattro righe, tanto per evidenziare le limitatissime possibilità di avere delle sorprese in queste gare. Piccole e minuscole incognite, sì, ma quasi mai sorprese non relative a cadute o scivolate. E infatti avevo scritto Bestia, concretizza in gara sì o no? È andata no. Miller, prima la prima curva, sì o no? È andata no, ma era prima la seconda curva. Francesco li fa a zuffare tra loro o si butta nella mischia. Si è buttato nella mischia alla grandissima da subito. Mark Marquez sarà quello che inizierà la mischia di qui sopra. Relativamente lo è stato, nel senso che gli unici momenti un po' da brivido, a parte il primo giro, avevano lui come protagonista. Le Yamaha, che dicevano tutti Oh, le Yamaha, 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 riusciranno a fare una top ten? Perché ovviamente Q2 diretta, già si parlava di chissà che. La realtà è che Quartararo andrà in Aprilia, perché secondo me si è stufato e ha fatto una top ten risicata. Maverick si metterà davanti e vincerà almeno una garetta? Al netto del regalo, sì. Pedro pedrerà e ha pedrato, perché è passato dall'accuno, si è qualificato settimo ed è arrivato settimo. È una grande prestazione. Però queste non sono previsioni. È che non ci sono molte altre possibilità. Infatti poi sbavavamo dietro a Pedro in Qatar, perché almeno dici, oh, buttagli da dentro e basta, e di tutto il resto non ci importa. E a me quello che dà fastidio è che i piloti, i ragazzi sopra le moto potrebbero dare molto di più, potrebbero farci divertire molto di più. Ne sono capacissimi, ve l'assicuro. E infatti quando sento parlare di mancanza di talenti, uno che fa ride, perché questa è gente che con le moto ci gira anche gli spaghetti volendo. Il problema sono le moto.